Avevano fatto il pieno di cocaina in Valdarno per rifornire poi il mercato di Arezzo, ma sono stati sorpresi ed arrestati dalla polizia. In manette sono finiti due cittadini albanesi di 35 e 28 anni. I due erano stati notati nel pomeriggio dagli investigatori della squadra mobile a girarsi nella zona del Valdarno, a bordo di un'auto doleggiata, una tecnica solitamente usata per cambiare spesso veicolo in modo tale da rendere più difficoltosa l'attività investigativa delle forze di polizia. I due inoltre erano già noti alle forze dell'ordine come dediti allo spaccio nel capoluogo aretino e così è stato organizzato un servizio di pedinamento. I poliziotti a questo punto hanno accertato che due stavano imboccando rapidamente l'autostrada 1 in direzione Arezzo. L'ipotesi delle forze dell'ordine era quella che i due avessero prelevato dal Valdarno un quantitativo di stupefacenti da immettere nel mercato aretino. Così, con l'aiuto della sottosezione della polizia stradale di Arezzo, è stato subito organizzato un controllo mirato del veicolo. Prima del controllo, gli agenti avevano anche notato come i due a bordo dell'auto si scambiassero un involucro di grosse dimensioni che è stato poi ritrovato al termine di una meticolosa perquisizione ed è risultato contenere cocaina purissima per un peso pari a 150 grammi. Sulla base di quanto accertato per i due sono scattate le manette per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito sono stati trasferiti nella casa circondariale di Solliciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.